Termina reti inviolate Arezzo calcio femminile Genoa nel match valido per la sesta giornata di serie B femminile. Le due squadre, entrambe neopromosse nella categoria, si sono affrontate in una partita molto equilibrata. Diciamo che lo prendiamo con la consapevolezza che poteva essere una vittoria, una partita che ha avuto molte occasioni da parte nostra, una soddisfazione è quella di non aver subito alcun gol, quindi cerchiamo di guardare il lato positivo e di ripartire da lì, consapevole che sono un punto guadagnato ma due punti persi. L'Arezzo calcio femminile dunque muove ancora la classifica dopo il successo dello scorso weekend sul campo della Puglia Trani. La squadra ha fatto una buona prestazione sotto l'aspetto del gioco, dell'intensità, dell'aggressività, le ragazze sono state brave. È normale che dobbiamo pensare, abituarci e imparare a far gol, perché sennò le partite poi diventano difficili, perché se non si segna è difficile anche vincere. Però la squadra oggi è presente, ha fatto una buonissima partita contro comunque sia un Genova che al di là del punteggio che è in questo momento, è una squadra organizzata, un amatore bravo, è una squadra che comunque sia, non è l'ultima arrivata, l'abbiamo già incontratta l'anno scorso e si vede che è di gioco. Però credo che oggi Arezzo per gran parte della partita abbia dominato la partita, sotto tutti gli aspetti. Poi ci è mancato il gol, abbiamo anche subito qualcosina, però il calcio purtroppo subire anche qualcosa ci sta. Ad ospitare il match allo stadio comunale Castiglion-Fibocchi, temporaneo trasloco, reso necessario per consentire le operazioni di risemina del terreno di gioco dello stadio comunale di Arezzo. Siamo molto contenti come amministrazione, come comunità, ospitare le ragazze dell'Arezzo femminile qui a Castiglion-Fibocchi per l'allenamento e finalmente oggi le abbiamo viste giocare. È stata un'emozione, una bella giornata, una bella domenica, una partita importante, pulita. Abbiamo visto il gioco del calcio. Non è stata conclusa, è stato messo a segno il risultato, però credo che sia stata veramente una bella partita. Quindi un grazie a tutte le ragazze, al mister e a tutta la squadra.